buon di buona gente sono luigi in arte elusio e benvenuti ad una nuova video lezione di storia lo so vi sono mancati questi miei video di divulgazione sono ma è mancato a me tantissimo farli però un po il periodo estivo che non non incentiva molto le visualizzazioni infatti mi sono reso conto tenendo d'occhio la dashboard che non c'era proprio quel grande seguito che mi sarei aspettato un po anche io questo quest'estate non sono stato particolarmente bene già ho avuto modo di dirlo purtroppo la mia pressione e il caldo estremo non vanno proprio d'amore e d'accordo quindi no sono ho avuto giorni migliori ecco di conseguenza quindi ho preferito lasciare passare un po di tempo che le vacanze ognuno si godesse ognuno ciascuno di noi si godesse le proprie vacanze e ho pensato quindi con settembre con il fresco che sta un po ritornando che quindi mi sta un po facendo ritornare la circolazione perché sì io con l'autunno ritorno a vivere ho detto eccomi possiamo ricominciare e in questi mesi comunque non sono stato a riposo comunque non soltanto a riposo ne ho approfittato per portarmi avanti con gli argomenti se avete tenuto d'occhio la community già sapete che ho bella però che ho già ben pronta la nuova serie la nuova piccola serie per questo canale quindi potete star certi che per le prossime settimane ritornerà un po di vita su questo mio canale qui e soprattutto riprenderanno le mie lezioni di storia ecco mi è mancato tantissimo farle per quanto sia faticoso però ragazzi è sempre una grande soddisfazione e spero di cuore che voi possiate apprezzare questa nuova stagione del canale delle lezioni di storia del vostro carissimo lusio bene e bando alle ciance e iniziamo e iniziamo forse con un video che doveva uscire già mesi fa ragazzi perché l'ho detto io devo dare la precedenza ai libri che mi sono arrivati da voi utenti veramente che mi aiutate moltissimo con i regali che mi fate con i libri acquistando per me i libri della mia watch list di amazon che come vi dico sempre contribuiscono a creare nuovi contenuti per questo mio canale e in effetti questo come anche la prossima video lezione sarà dedicata interamente ai contributi fatti da voi utenti e infatti oggi come potete vedere dal titolo qui sotto parleremo del processo di giovanna d'arco giovanna d'arco che è un personaggio che ormai è uno dei personaggi che più sono di casa su questo mio canale ho già avuto modo di parlarne non solo è stata la protagonista del primo video in assoluto di questa mia rubrica ma è stata anche testimone protagonista di altri due video in cui ho parlato di lei della sua vita della teoria secondo la quale lei sarebbe potuta sopravvivere eccetera con questo video andiamo a esaminare unicamente il suo processo e per questo video mi sono basato sul contributo di un anonimo utente non so chi sia perché purtroppo quando mi sono arrivati questi due libri non c'era un biglietto ho provato anche a chiedere sulla community per dire a questa persona gentilissima di palesarsi in modo che io possa ringraziarlo barra ringraziarla e ne approfitto di nuovo a chiedere gentilissima utente anonimo su che hai contribuito a questo video io ti ringrazio ancora palesati se vuoi così posso ringraziarti a voce possono ringraziarti anche tutti quelli che apprezzeranno questo video comunque dico già che per questo video mi sono basato principalmente su il processo di condanna di giovanna d'arco a cura di teresa cremisi e donne in fuga vite ribelli nel medioevo di maria serena mazzi entrambi i libri che mi sono arrivati da questo questo anonimo utente che ancora non si è palesata chi lo sa se magari con questo video si paleserà intanto ringraziamo tutti quanti in coro chiunque sia e godiamoci godetevi il video allora pochi processi nella nostra storia sono stati così incisivi quanto quello di cui parleremo appunto oggi quello dedicato a giovanna d'arco forse non fu così incisivo a livello sociale oltre che storico come tanti altri processi per fare un esempio il processo scoppiato quando assieme a quando scoppiò la fred refuse o i processi di norimberga dopo la seconda guerra mondiale per citare la nostra storia più recente ma gli storici sono concordi nell'affermare che gli atti processuali riguardanti giovanna d'arco sono tra i testi più importanti giunti a noi dal medioevo e se proprio giovanna d'arco è la figura femminile appartenente al contesto medievale sulla quale sappiamo di più in assoluto è proprio grazie a questo processo che ci ha restituito le sue esatte parole sulla sua vita e sulle sue esperienze certo bisogna tener conto che gli atti originali del processo non sono come siamo abituati a vederli oggi cioè come ci vengono proposti nei libri ovvero con questa struttura drammaturgica dove ogni personaggio ha la sua battuta come in un copione teatrale o la sceneggiatura di un film i verbali venivano stesi nel corso del processo da due notai presenti che stilavano una trascrizione degli interrogatori con l'uso del discorso indiretto le prime trascrizioni sono andate perdute e oggi ci sono rimaste delle copie che vennero fatte successivamente tra le quali una traduzione in latino degli atti del processo fatta cinque anni dopo il processo e una stesura definitiva dei capi d'accusa fatta all'indomani dell'esecuzione di giovanna le eventuali variazioni sono minime dal momento che si sa per certo che ogni copia è stata fatta senza distaccarsi dai testi originali finita questa doverosa premessa tecnica possiamo passare alla sostanza e vorrei iniziare citando proprio teresa cremisi curatrice di questa edizione marsilio degli atti del processo quando dice che paradossalmente proprio il processo che l'ha portata alla morte ha dato una voce a giovanna le ha dato la possibilità di raccontarsi di rendere pubblica la sua storia ecco questo processo farsa organizzato da chi voleva la sua morte ironicamente è stato più corretto del successivo processo di riabilitazione neanche quello a dirla tutta un grande esempio di limpidezza alla base di tutti i processi che videro coinvolta in maniera diretta o indiretta giovanna ci fu sempre una finalità che andavano una finalità che andava oltre la salvaguardia e il rispetto della sua persona cosa che dovrebbe essere di primaria importanza nel campo della giustizia ciò che importava era fare contenti chi organizzava questo processo sia che si trattasse degli inglesi che volevano delegittimare tutte le vittorie conseguita da giovanna in guerra sia che si trattasse di carlo settimo di valois che sperava con il processo di riabilitazione di ripulire la sua immagine riabilitando colei che era stata la fautrice delle sue vittorie ma prima di buttarci a capofitto in questo universo processuale credo sia il caso di fare un piccolo ripasso della storia di giovanna d'arco ci troviamo nell'ultima fase di quella che oggi conosciamo come guerra dei cent'anni conflitto secolare che ha visto contrapporsi l'inghilterra e la francia per il dominio regio su quest'ultima dopo varie vicende in un momento in cui la francia perdeva colpi e territori vessata dagli inglesi e dai loro alleati i borgognoni la speranza rinacque quando dalla lorena si fece avanti giovanna d'arco una popolana di 17 anni che dicendo di essere stata ispirata da dio attraverso voci celesti che le parlavano da quando aveva 13 anni assicurò il delfino di francia carlo di valois non ancora incoronato che avrebbe riconquistato la francia e cacciato via gli inglesi galvanizzati dalla presenza di questa fanciulla che secondo la vox populi era stata mandata da dio stesso l'esercito francese reagì agli inglesi riprendendo la città di orlean nel 1429 e permettendo quindi di aprire la strada per reims dove carlo di valois poté essere incoronato come re di francia indebolendo quindi le pretese della corona inglese sul trono francese purtroppo la parabola di giovanna seguì un percorso discendente a causa di intrighi all'interno della corte francese dove alleanze sotterranee e interessi economici e politici puntavano ad una conclusione del conflitto attraverso accordi che rischiavano solo di prolungare ulteriormente il conflitto giovanna che puntava a scacciare gli inglesi approfittando di quella ripresa venne estromessa e successivamente abbandonata a se stessa venne catturata dai borgognoni che la vendettero agli inglesi in balia dei suoi nemici nemici che era chiaro volevano non solo la sua morte ma anche lo snaturamento delle sue vittorie giovanna si preparò alla sua ultima battaglia la più dura e dolorosa perché stavolta sarebbe stata lei da sola senza i suoi compagni d'arme a guardarle le spalle avrebbe combattuto da sola disarmata contro un esercito di giudici ed ecclesiastici capeggiati da nobili inglesi la posta in gioco la sua vita è così che ha inizio il suo processo il 21 febbraio del 1431 a rouen un processo per eresia ufficialmente ufficiosamente era un processo già scritto che come abbiamo detto aveva l'unico fine di screditare agli occhi del mondo la figura di giovanna e di conseguenza le sue azioni belliche e politiche anche per questo motivo il processo di condanna di giovanna d'arco andrebbe inserito tra le battaglie o comunque tra gli avvenimenti più importanti all'interno della guerra dei cent'anni già dal primo interrogatorio che funge da introduzione a chi era giovanna di chi era figlia quanti anni avesse chi fosse la sua madrina il nome del prete del suo paese natale che l'aveva battezzata tutte domande di prassi che servivano a dare un'identità all'accusata bene dicevo già da questo primo interrogatorio siamo anche testimoni dell'intelligenza e dell'arguzia di giovanna che si rifiuta di recitare il padre nostro di fronte ai giudici può sembrare una cosa da nulla ma in realtà in questo processo politico camuffato da processo in materia di fede qualunque dettaglio riguardante la fede è importantissimo se giovanna avesse fatto come gli era stato imposto e avesse recitato il padre nostro in quel contesto processuale i suoi giudici avrebbero potuto far leva in maniera cavillosa sul suo essere eretica perché aveva recitato una preghiera in un contesto diverso da quello religioso non dimentichiamo che giovanna che questo processo non si svolgeva in una chiesa si svolgeva in una prigione inglese quindi in un luogo profano non religioso e infatti giovanna adduce il suo rifiuto dicendo che reciterà il padre nostro solo in confessionale quindi dopo essersi accostata ai sacramenti che da buona cattolica l'avrebbero resa degna di recitare il padre nostro con l'anima purificata già questo iniziale modo di agire di giovanna ci fa capire quanto lei non sia la ragazzina ignorante esaltata e sprovveduta che i giudici credevano che fosse e che quindi il processo non sarebbe stato così breve come chi stava dietro le quinte sperava giovanna fece capire fin da subito di essere un osso duro e già qui iniziano le domande che uno si pone anzi diciamo pure la domanda che tutti si pongono quando vanno ad approfondire questa parte della storia di giovanna d'arco come è possibile che una ragazzina ignorante senza istruzione sia riuscita per mesi a tener testa a uomini di chiesa e di legge di grande competenza ed esperienza per farvi capire con chi giovanna aveva a che fare è dopo fare un piccolo elenco dei suoi giudici dobbiamo immaginare i giudici di questo processo come una sorta di schema piramidale vivente con al suo vertice che possiamo vedere come una punta che è talmente alta da essere coperta dalle nubi non un giudice ma l'uomo che più di tutti aveva premuto affinché quel processo si tenesse ovvero il duca di bedford giovanni plantageneto zio del re bambino d'inghilterra enrico sesto e quindi reggente d'inghilterra ecco lui era l'eminenza grigia di quel processo tutto doveva svolgersi secondo i suoi ordini e tali ordini erano distruggere la reputazione di giovanna e poi distruggere la sua persona sotto il duca di bedford c'era pierre cochon vescovo di bovè oggi conosciuto principalmente come il vero principale antagonista il villain della storia di giovanna in realtà cochon non è il super cattivo che una storiografia vecchio stampo romanzi e soprattutto film si sono divertiti a rappresentare a suo modo cochon era un uomo che seguiva ciò che per lui era giusto lui era stato uno dei sostenitori del trattato di troua del 1420 che concedeva legalmente la corona di francia a enrico sesto d'inghilterra cosa che era vista come un modo per porre fine alla guerra dei cent'anni nella maniera meno violenta possibile e quindi per questo lui cochon parteggiava per gli inglesi vista la sua alta carica fu investito della carica di presidente del tribunale un suo galoppino era jean d'estivè canonico di bovè che ebbe il ruolo di promotore della causa una sorta di pubblico ministero e che sarebbe stato il più acceso e il più violento tra gli accusatori di giovanna diciamo che tutto quello che cochon non poteva dire per non degradare il suo ruolo lo faceva dire ad estivè che era talmente famoso per la sua tendenza ad usare un linguaggio violento e volgare da talmente violento e volgare da guadagnarsi sopra il nome di benedicite in senso ironico di solito benedicite si usava per smorzare le le bestemmie che si dicevano ecco quindi benedicite era usato in senso ironico come nomignolo per destivè per ricordare che questo processo aveva una parvenza di processo religioso per eresia venne chiamato anche un vicario dell'inquisizione padre jean lemaitre se dobbiamo provare pietà per qualcuno proviamolo per questo poveretto che se avesse avuto un po più di spina dorsale si sarebbe ribellato a tutte le procedure sbagliate e false di questo processo lemaitre fu uno dei pochi che tentò seppur debolmente di venire incontro a giovanna suggerendo in alcune occasioni di spostare il processo a roma per sottoporre giovanna al giudizio del papa in modo così da dare legittimità a quel processo purtroppo lo stesso lemaitre era consapevole che se era stato chiamato era solo per fare presenza non gli si chiedeva assolutamente di prendere parte attiva in maniera concreta a questo processo per quanto riguarda l'altro elenco tagliamo un po da testa al toro e andiamo veloci vi vado a leggere direttamente l'elenco ecco qua vennero poi altri per gli altri nomi degli altri partecipanti c'erano un consigliere esaminatore jean de la fontaine due notari cancellieri guillaume collier e guillaume machon e poi un terzo nicolata archaei che fu nominato più tardi poi quali assessori cochon aveva convocato sei universitari parigini e una sessantina circa fra prelatri fra prelati e avvocati di tribunali ecclesiastici essi arrivarono alla spicciolata fra il gennaio e febbraio fra di loro c'erano thomas de coursey rettore dell'università di parigi jean beau pair che era stato rettore della stessa università nel 1412 e 13 due domenicani che avrebbero accompagnato con simpatia giovanna sino all'esito della tragedia martin l'advenu e isembar della pierre e alcuni inglesi fra cui il vescovo di norwich e al processo assiste naturalmente al di fuori e al di sopra del collegio giudicante anche il cardinale di winchester prozio e cancelliere di enrico sesto ecco come vedete quindi gli avversari di giovanna non erano certo degli scappati di casa e qui ritorniamo alla domanda che assilla tutti gli storici come fece giovanna a tenere in scacco uomini che avevano per età e per esperienza un bagaglio culturale maggiore del suo si è molto parlato sulle capacità dialettiche di giovanna la geografia religiosa dice che erano le sue voci a suggerirle le risposte studi più razionali suggeriscono che invece fossero i già citati l'advenu e della pierre a suggerirle le risposte nel tentativo di aiutarla dal momento che non le era stato concesso nessun avvocato difensore ma queste teorie valgono solo se diamo per scontato che giovanna fosse una contadina ignorante come la vulgata popolare ha tramandato giovanna era sia analfabeta ma ciò non significa che fosse stupida e ignorante tante altre persone anche appartenenti alla nobiltà nell'epoca medievale erano analfabete lo stesso carlo magno per fare un esempio estremo era semi analfabeta non sapeva scrivere anche se sapeva leggere ma ciò non significa che non fossero in grado di ragionare e di mettere in piedi discorsi ben strutturati e ragionati e giovanna pur essendo di umili origini proveniva da una famiglia di proprietari terrieri e aveva un suo livello culturale e le risposte che diede a molte delle domande più insidiose che le ponevano i suoi giudici ne sono un chiaro esempio molte di queste risposte sono un perfetto esempio di concretezza e ragionevolezza non basato su articolati voli pindarici ma sulla semplice concretezza del mondo contadino che comprende a suo modo le dimensioni del divino esprimendole a parole sue e non dimentichiamo che la chiesa per prima quando le conveniva sottolineiamolo diceva che l'essenza di dio la si trovava nella semplicità e nell'umiltà quando le conveniva di esempi di questa assegnatezza di giovanna ne abbiamo più e più volte nel corso del processo ve ne vado a leggere alcuni alcuni aspetti alcuni prezzi allora questo qua che interessa molto alla domanda di boper che le chiese quando hai visto questa voce venire verso di te c'era anche luce giovanna risponde moltissima dappertutto proprio come si conviene non crediate che tutta la luce sia riservata a voi questa probabilmente è una delle frasi più eretiche pronunciate da giovanna durante il processo in maniera nemmeno tanto sottile giovanna con questa semplice parola non crediate che tutta la luce sia riservata a voi rivendicava la possibilità di essere toccati dalla luce di dio senza per forza indossare l'abito ecclesiastico siamo lontani anni luce dalla riforma protestante ma già se ne vede qualche seme in questa singola frase poi altri estratti allora ecco qui alla domanda e non ti rimetti all'autorità della chiesa giovanna giovanna risponde mi rimetto al nostro signore che ha voluto inviarmi alla santa vergine e a tutti i santi del paradiso che dio e la chiesa siano una cosa sola mi sembra chiaro ma voi perché fate tanti cavilli vedete ritorna di nuovo questo senso io dopo io io credo io do fede al nostro signore credo anche nella chiesa per me sono inscindibili ma perché siete voi siete voi che fate tanti cavilli siete voi che andate a cercare il pelo nell'uovo oppure ancora e questa penso sia la 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 più famosa delle frasi di giovanna durante il suo processo non pensi di dovere obbedienza alla chiesa terrena e cioè al nostro santo padre al papa ai cardinali agli arcivescovi ai vescovi e agli altri prelati della chiesa sì ma prima devo obbedienza a dio tutto ciò riporta uno degli aspetti più interessanti di questo processo ovvero il fatto che ci permette di conoscere il sostrato culturale che interessava il villaggio di dom remy e quindi anche l'intero micromondo contadino del medioevo con le sue pratiche le sue usanze le sue ricorrenze i suoi aspetti folcloristici che rimandavano a un passato paganeggiante e che in alcuni casi è giunto fin quasi ai nostri giorni vi faccio un piccolo esempio così an passante allora la città in cui vivo ha un passato prettamente contadino ha conosciuto l'industrializzazione solo verso la fine della prima metà del novecento per cui ha conservato fino ad oggi molti elementi della tradizione tipica contadina primo fra tutti la celebrazione della fine dell'inverno e l'inizio della bella stagione che veniva rappresentata da figure apotropaiche che stavano a rappresentare non solo le quattro stagioni ma anche i quattro stadi della vita i quattro ruoli tradizionali associati al concetto di famiglia e andando ancora più indietro più indietro nel tempo grazie anche allo studio sulle varie simbologie si poteva anche arrivare a determinate figure del pantheon pagano come la dea cerere attraverso la rappresentazione dell'estate con le spighe con le spighe di grano la dea venere con il simbolo del pesce che nella tradizione del mio paese è un simbolo accostato alla figura della fanciulla ovvero la primavera i frutti della terra vengono portati poi dagli spiriti che incarnano i dodici mesi nella tradizione del mio paese tutti i figli di un vegliardo che rappresenta una delle tante varianti del vecchio saggio un'importazione questa di tradizione celtica unita all'aspetto semitico della religione giudaico cristiana infatti questo vecchio saggio viene chiamato in maniera dialettale marcusalemma che sarebbe in dialetto campano matusalemme una variazione di matusalemme che è proprio rappresentazione del della vecchiaia per antonomasia e queste celebrazioni si svolgevano nel corso di feste dove si si ballava si intonavano canti e si raccontavano e a volte si rappresentavano delle storie figlie dei più cittadini e colti sacri misteri che si svolgevano nel medioevo durante le festività sacre come la pasqua o le feste dei santi patroni questo è proprio quel mondo di usanze contadine che sarebbe stato messo in croce o meglio messo al rogo dall'inquisizione ed è quello che è possibile trovare anche nel piccolo universo rurale dove giovanna visse la sua infanzia la stessa infanzia dove lei formò questo suo pensiero religioso che abbiamo a teste visto un'infanzia che era fatta anche di celebrazioni religiose e apotropaiche dove le domeniche in chiesa e le feste patronali si alternavano a questi riti ancestrali entrati a far parte del contesto religioso tradizionale del suo paese da bambina anche giovanna prese parte alle celebrazioni primaverili che vedeva le bambine del villaggio fare corone di fiori e appenderle ai rami di un grande albero che sorgeva a domre mi e che veniva chiamato albero delle fate poiché la tradizione dai toni fiabeschi associava quell'albero secolare alle apparizioni delle fate creature al tempo stesso angeliche perché benefiche e demoniache perché appartenenti alla sfera pagana poco distante dall'albero delle fate era attestata anche la presenza di una fonte che si diceva miracolosa una fonte le cui acque sficeva che guarissero da ogni male ci ritroviamo qui su un terreno scivoloso e per giovanna sarebbe stato facile perdersi in questo intrico di tradizioni popolari che lei visse ammettendolo con molta semplicità dal momento che non ci aveva mai visto nulla di male obiettivamente era forse un male fare il girotondo attorno a un albero insieme alle sue compagne di giochi fare coroncine di fiori durante una festa popolare alla quale partecipavano tutti gli abitanti del villaggio compreso il prete raccontare storie di fate che aiutavano gli abitanti del villaggio bere da una fonte che sembra avesse proprietà terapeutiche per i suoi giudici sì lo era era un male si tirò in ballo anche un precedente di stregoneria molto vicino alla famiglia di giovanna infatti si sapeva che la donna che le aveva fatto da madrina al suo battesimo era stata inquisita per stregoneria perché aveva detto di aver visto le fate attorno alla fontana miracolosa ma a tutte queste insinuazioni giovanna rispondeva affermando che non c'era nulla di malevolo in queste tradizioni contadine lei personalmente non aveva mai visto le fate attorno all'albero oppresso la fontana e la sua madrina non aveva mai ricevuto alcuna condanna era anzi riconosciuta come una donna saggia e onesta ma quello dell'albero delle fate non fu l'unico tentativo dei suoi giudici per insinuare il sospetto di stregoneria nei confronti di giovanna ad un certo punto venne addirittura buttata lì l'idea che potesse avere una pianta di mandragola pianta da sempre associata alla stregoneria e qui vado a leggere il passaggio ecco qua che hai fatto della tua mandragola non ho mandragola e non ne ho mai avuta una ho sentito dire che vicino al mio paese ce n'è una ma non l'ho mai vista ho sentito dire che si tratta di una cosa pericolosa e che non bisogna tenerla non so a che cosa serva dove sta questa mandragola di cui hai sentito parlare sotto terra così ho sentito dire vicino all'albero di cui abbiamo parlato ma non conosco il posto preciso ho sentito dire che sta sotto un nocciolo hai udito qualcuno raccontare a che cosa serve la mandragola pare faccia arricchire ma non ci credo le voci non mi hanno mai detto niente a proposito come vedete qui giovanna riesce sempre a salvarsi lei le conosce le tradizioni del suo paese quindi non è tanto stupida da fare la gnorri però si scrolla idosso dicendo che comunque lei di base non ha mai visto le fate non ha mai visto la mandragola non ne sa niente eccetera eccetera però non nega comunque di non conoscere le tradizioni popolari del suo paese forse però l'accusa più pericolosa per giovanna per quanto riguarda l'aspetto più esoterico diciamo pure così della sua vita fu quella riguardante l'episodio del bambino resuscitato quanto aveva il bambino di lagni che andasti a visitare tre giorni lo portarono a lagni davanti alla statua di nostra signora mi dissero che c'erano tutte le ragazze della città mi chiesero di andare anch'io a pregare il signore e la santa vergine perché gli restituissero vita e salute andai e pregai con gli altri e finalmente diede segno di vita sbadigliò per tre volte fu battezzato ma morì pochi istanti dopo così lo seppellirono in terra consacrata si diceva che erano tre tre giorni che il bambino non dava più segno di vita era nero come la sua tunica come la mia tunica ma quando sbadigliò riprese colore stavo in ginocchio con le altre ragazze a pregare è vero che in città si disse che questo successe grazie alle tue preghiere non me ne preoccupai ora a parte il sottotesto di questo episodio che a seconda di come lo si legga potrebbe essere incastrato tanto in quell'alveo di storie di piccoli miracoli presenti in tante ageografie di santi e sante quanto in episodi di sospetta stregoneria comunque la si voleva la si voleva anche a questo giro trarre in inganno sperando che lei si vantasse di operare miracoli ma lei svicolò da questa insinuazione spostando il fulcro dell'attenzione da se stessa alla collettività ammise sì di essere stata presente a questo miracolo ma disse anche di aver fatto parte del gruppo di donne e ragazze che pregarono tutte insieme per la guarigione del bambino questo aspetto della sorellanza è molto interessante per non dire più diffuso di quanto oggi non si pensi già in ambito medievale le donne ricercavano una propria indipendenza al di fuori dell'autorità maschile in ambito familiare una cosa del genere era praticamente impossibile per non dire impensabile in ambito monastico c'era sì una parvenza di autonomia ma le suore erano comunque soggette agli uomini agli abati ai vescovi anche ai semplici parroci già nel 1200 quindi si erano iniziate a formare quelle piccole comunità di donne le beghine che si raccoglievano in comunità di stampo monastico vivendo una vita sia attiva che spirituale ma ponendosi al di fuori della sfera ecclesiastica si trattava per lo più di donne rimaste vedove o donne non sposate facoltose e indigenti che si riunivano in edifici appositi nei quali portavano avanti un'esistenza tranquilla come una comunità a sé di base le beghine potevano rappresentare una sorta di suore laiche ma il fatto che dimostrassero un'aperta autonomia disturbava le sfere ecclesiastiche che le guardava con sospetto e non mancarono episodi di beghine condannate al rogo per eresia come fu il caso di marguerite por et bruciata nel 1310 per aver scritto un'opera dal titolo lo specchio delle anime semplici nel quale analizzava gli aspetti dell'anima dell'amore e della ragionevolezza ma parlava anche della contrapposizione tra la chiesa come istituzione fisica ovvero la chiesa militante e la chiesa spirituale o trionfante incarnata da dio e dando la precedenza a quest'ultima un pensiero che come abbiamo visto ritorna anche nelle parole di giovanna questo aspetto della spiritualità vissuto in ambito comunitario prettamente femminile distaccato da invadenze femminili maschili che è una cosa che oggi ci sembra praticamente la norma basti pensare che oggigiorno i gruppi di preghiera sono formati principalmente da donne ecco questo aspetto ritorna più volte anche nella vita di giovanna e non solo sul piano religioso abbiamo visto già giovanna nel gruppo di bambine che ballano attorno all'albero delle fate giovanna che prega assieme alle altre donne per la guarigione del bambino ma ci sono anche giovanna che durante la sua prigionia in borgogna venne difesa dalle donne della famiglia del duca filippo di borgogna che si opposero fino all'ultimo a che lei venisse venduta agli inglesi e anche durante il suo processo furono sempre le donne che fecero sentire la loro voce e chiesero che giovanna venisse processata in maniera giusta e dal papa in maniera giusta e dal papa stesso e non furono donne qualsiasi no ma donne appartenenti al partito inglese il partito di coloro che che premeva per la sua morte proprio tra queste file emersero donne come la moglie del duca di bedford il reggente d'inghilterra ovvero anna di borgogna sorella del duca filippo e secondo alcuni storici anche la moglie del duca di york cecily neville con lei che fu la madre di due re inglesi edoardo quarto e riccardo terzo furono loro a chiedere a gran voce che giovanna avesse un processo giusto il fatto che furono quasi sempre le donne a sostenere a difendere a proteggere giovanna in quest'ultima fase della sua vita ci porta a riflettere molto su quanto influisse il senso di complicità e sorellanza a sostegno dell'universo femminile medievale un sostegno che andava oltre le differenze non solo di classe sociale ma anche di schieramento politico e geografico per ritornare alla questione delle accuse in ambito spirituale ed esoterico è piuttosto contorta la questione della falsa profetessa caterine della rochelle una donna che al pari di giovanna affermava di ricevere visioni e messaggi celesti andiamo a leggere anche la sua vicenda hai conosciuto caterine della rochelle l'hai incontrata sì a jargon e a montfaucon nel berri non ti mostrò una dama vestita di bianco che a suo dire andava spesso a trovarla no che cosa ti ha raccontato che andava a trovarla una dama bianca vestita di broccato di oro fino che questa dama le diceva di farsi dare dal re araldi e trombettieri e andare di città in città a proclamare che chiunque possedesse oro argento o tesori nascosti li consegnasse subito diceva che avrebbe saputo riconoscere chi disobbediva e avrebbe scovato i loro tesori i loro tesori nascosti mi serviranno a pagare i miei soldati diceva le risposi di tornare da suo marito badare alla casa e accudire i suoi bambini poi per essere ben sicura ne parlai a santa margherita e a santa caterina le quali mi dissero che tutta la faccenda di questa caterina era pura follia scrissi al re che gliene avrei parlato e quando lo vidi di persona gli dissi che la storia di caterina era una follia una cosa senza fondamento solo che frate richard voleva che la si lasciasse fare furono molto in collera con me frate richard e caterina hai parlato a caterina della rochelle del piano di battaglia della charité caterina mi disse di non andare che faceva troppo freddo e lei non sarebbe andata lei voleva andare dal duca di borgogna per chiedergli di fare la pace io le dissi che secondo me non avremmo trovato la pace se non sulla punta delle nostre spade chiesi a caterina se quella signora andava a trovarla tutte le notti e le dissi che avrei dormito con lei così da incontrarla lo feci rimasi sveglia fino a mezzanotte e non vi di nulla poi mi addormentai quando si fece giorno le chiesi se la signora era venuta mi disse di sì ma che io dormivo e lei non era riuscita a svegliarmi allora mi feci dire se la signora sarebbe venuta anche quella sera e caterina disse sì così dormi di giorno per poter vegliare di notte mi coricai anche quella sera con caterina e vegliai ma non vi di nulla nonostante le chiedessi spesso se la signora sarebbe venuta e caterina rispondeva sempre sì sì subito questo episodio ci fa capire quanto il caso di giovanna non fosse né unico né raro e sul motivo per cui a lei venne dato credito e ad altri come questa caterina della rochelle no può risiedere in molti aspetti prima di tutto nella portata politica che queste figure di emissari del cielo in terra potevano assumere e da questo punto di vista giovanna era stata in grado di mostrarsi alle persone giuste e soprattutto dimostrarsi credibile non sappiamo se sulla base di segni miracolosi come dicono le ageografie o nel fatto che lei risultava più concreta nelle sue parole il suo evitare a prescindere di toccare temi veniali che avrebbero sicuramente messo sull'attenti gli scettici di solito infatti questi profeti andavano a reclamare appunto ricchezze e denari per finanziare missioni militari invece giovanna non chiese mai denaro lei chiese sempre direttamente un'armatura e un esercito da guidare o detto più concretamente di essere un simbolo in grado di incentivare l'esercito verso la vittoria come in effetti fece giovanna portò sempre messaggi concreti e soprattutto fatti non si impelagò mai sulla realtà o meno delle sue visioni per lei erano un dato di fatto per se stessa che gli altri le credessero o meno le importava poco o nulla a lei interessava che i messaggi e le indicazioni che le sue voci le davano venissero seguite se gli altri credevano o meno che le sue voci fossero reali non le interessava minimamente persino durante il processo sembra che a lei importi poco che ai suoi giudici non le credano lei non si sforza più di tanto a dare valore alle sue visioni salvo un'eccezione in particolare come vedremo tra poco probabilmente la sua credibilità risiede in questo che per lei le sue voci erano esistevano a prescindere che gli altri le credessero oppure no era lei stessa con la sua fede a dare loro concretezza c'è un bel po di fenomenologia di urser in tutto questo una fenomenologia proprio antelitteram e tra questa pacata certezza e l'eccesso di zelo nel volere a forza dimostrare di avere ragione e di non essere un visionario tipico di tanti altri colleghi di giovanna d'arco la prima modalità aveva sicuramente maggior presa sugli altri è piuttosto ambiguo il modo in cui i giudici si approcciarono invece alla questione delle voci di giovanna si riteneva che le sue voci non fossero reali ma quando si parlava dell'episodio del salto dalla torre di borevoir quando lei aveva tentato di evadere durante la sua prigionia in borgogna episodio in cui giovanna non aveva seguito le indicazioni delle sue voci che stando alle parole della ragazza l'avevano esortata a non saltare a portare pazienza e rimettersi a dio ebbene in questo episodio i giudici sembravano rimproverarla per questa disobbedienza come se credessero che le voci fossero vere e che giovanna disubbidendo a loro disubbidendo loro sia col si fosse dimostrata colpevole di non aver seguito un precetto divino questo è quasi sicuramente un un espediente machiavellico volto a farle lo sgambetto a coglierla in fallo potendo accusarla di mancanza di obbedienza ai precetti divini o in alternativa di accusarla di aver tentato di togliersi la vita peccato mortale secondo la morale di quell'epoca ma il primo caso paradossalmente avrebbe gettato sulla questione delle voci l'accettazione da parte degli stessi giudici della concretezza delle voci ironicamente con queste mezze insinuazioni loro stessi ponevano in seria considerazione che giovanna dicesse la verità e che le sue voci non solo fossero vere ma che potessero davvero essere emanazioni angeliche sorvolando sul fatto che venne anche indagata la seria possibilità che potessero trattarsi di visioni demoniache come quando le venne chiesto maliziosamente se l'arcangelo michele fosse nudo quando le appariva al che giovanna rispose nella sua tipica maniera ironica e sfacciata che sembra fosse proprio una sua caratteristica caratteriale e perché doveva essere nudo che forse dio non ha di che vestire i suoi angeli quindi il fatto che le voci potessero essere reali venne tenuta in seria considerazione durante il processo stiamo comunque parlando di uomini di fede per quanto prestati si chi più chi meno agli interessi più mondani della politica di conseguenza argomenti come le visioni non erano da prendere tanto a cuore leggero le storie di visioni miracoli ma anche solo di persone toccate da dio ricoprivano un ruolo importante all'interno della fede cattolica la chiesa aveva sì il dovere di valutare che non ci fosse né ombra di mistificazione né lo zampino del diavolo ma bisogna tenere presente anche la possibilità che fosse tutto vero questo è un aspetto col quale molti giudici avrebbero dovuto confrontarsi anni dopo quando ci fu il processo di riabilitazione certo a quel punto il vento della storia era cambiato gli atti di pentimento e di dolore fioccarono ma è da tenere in seria considerazione che già all'epoca del processo di condanna qualcuno pur non dicendolo ad alta voce nutrisse la possibilità che giovanna fosse sincera anche perché c'era già stato un altro processo a poitier all'inizio della missione di giovanna non fu tanto un vero e proprio processo quanto un formale controllo quasi un esame alla quale venne sottoposta giovanna affinché degli ecclesiastici si rendessero conto se era sincera o era una pazza o una strega o un'eretica ma così come a rouen i preti erano in mano agli inglesi a poitier i preti erano in mano al partito del delfino carlo di valois che aveva i suoi interessi a legittimare l'operato di giovanna quindi in sostanza era quasi sempre un processo pro forma con una sentenza già decisa in partenza ma da un punto di vista giuridico gli esiti del processo di poitier si sarebbero dovuti tenere in conto come fece notare più volte la stessa giovanna soprattutto quando le facevano domande alle quali lei si rifiutava di rispondere purtroppo gli atti di questo processo di poitier non sono giunti fino ai nostri giorni un elemento interessante che denota una sottile astuzia da parte di giovanna è quello delle profezie perché sì gente non solo non di sole voci e visioni stiamo parlando ma anche di profezie e segreti emersi durante il processo uno dei temi più interessanti o comunque quello più trattato durante il processo fu il segno che giovanna diede a carlo durante il loro primo incontro a chinon il segno celeste che a detta di giovanna indicava il pieno diritto di carlo ad essere re di francia cosa da non far passare sotto gamba dal momento che viviamo qui che in questo con che ci troviamo in un contesto in cui il diritto del re ad essere tale è concesso proprio da dio di questo segno al tempo degli inizi dell'impresa di giovanna si era molto parlato ma mai in maniera dettagliata e più volte nel corso del processo giovanna si rifiutò di parlarne apertamente su questo non su questo fu sempre ferma e non sappiamo bene perché infatti è sbagliato pensare che lei non rivelò i dettagli del segno celeste perché le sue voci le avevano impedito di parlarne fu proprio giovanna ad ammettere di aver giurato di non rivelare niente non perché le voci glielo avessero ordinato ma perché era stata lei stessa a voler giurare di non parlarne e tu stessa conosci la prova che hai fornito al re non voglio dirlo l'ho promesso in circostanze tale che non potrei rivelarlo senza diventare spergiura a chi l'hai promesso allora a santa caterina e a santa margherita e ho fatto questa promessa senza che me lo chiedessero e l'ho fatta conoscere al re è stata una mia decisione troppa gente mi avrebbe fatto queste domande se non avessi deciso di promettere alle mie sante il silenzio e in effetti solo successivamente avrebbe raccontato i dettagli di questo segno celeste ovvero il segno fu questo portandogli una corona un angelo annunciò al re che avrebbe riconquistato il regno di francia con l'aiuto di dio e per mezzo del mio operato gli diceva di concedermi la possibilità di compiere la mia missione e cioè di darmi degli uomini d'arme perché altrimenti non era tanto vicino il giorno della sua incoronazione questo credo che sia il passaggio del processo che lascia più straniti perché non lo si riesce a collocare bene non ne comprendiamo in retroscena cosa aveva spinto giovanna dopo essersi ostinata a mantenere a lungo questo segreto a rivelarlo così alla fine ad essersi decisa di punto in bianco a rivelarlo e proponendo un'immagine da romanzo cortese e cavalleresco che sembra quasi strizzare l'occhio all'apparizione del santo graal al cavaliere galahad del ciclo arturiano forse un tentativo di accontentare i suoi giudici raccontando loro ciò che volevano sentirsi dire e ma ciò stonerebbe parecchio con l'aspetto di devota cristiana di giovanna che non si azzarda mai a mentire o a mettere in discussione la sua fede religiosa figuriamoci a dire il falso o ad essere spergiura non mancarono altri tipi di premonizioni come quelle minacciose all'indirizzo dei suoi giudici in particolare quella contro il vescovo koscion voi dite di essere il mio giudice io non lo so se lo siete ma badate a non giudicarmi ingiustamente perché correte gravi pericoli io ve lo dico affinché qualora nostro signore voglia castigarvi io possa dire di avere fatto tutto il mio dovere avvertendovi sembra un po' una spacconata atta a terrorizzare i suoi inquisitori ma paradossalmente col seno di poi giovanna ci azzeccò infatti koscion non ebbe effetti negativi materiali per questo processo ingiusto perché morì di morte naturale prima che venisse aperto il processo di riabilitazione ma dovette subire una condanna postuma infatti venne scomunicato per aver agito contro i dettami della chiesa durante il processo e a quanto risulta sembra che il suo corpo venne disotterrato e riseppellito in terra sconsacrata altri giudici ancora vivi al tempo del processo di riabilitazione dovettero fare atto di contrizione pubblicamente ammettendo i loro errori fatti in malafede ma è la profezia della fuga di giovanna a colpire maggiormente sia i credenti che gli scettici santa caterina mi ha detto che verranno in mio aiuto non so se questo vorrà dire che sarò liberata o se durante il processo accadrà qualcosa di inaspettato che mi renderà la libertà credo che sarà una di queste due cose di solito le mie voci mi dicono che sarò liberata con una grande vittoria e dopo mi dicono accetta tutto con serenità non temere il tuo martirio perché alla fine verrai nel regno dei cieli queste cose me le dicono così in tutta semplicità credo che per martirio intendano la pena e i tormenti della prigionia non so se dovrò anche affrontare sofferenze più terribili ma per questo mi rimetto al nostro signore già durante la sua prigionia in borgogna mesi prima giovanna aveva tentato la fuga come abbiamo detto gettandosi giù dalla torre del castello di borgogna anche per questo era tenuta ai ceppi e guardata a vista temendo che potesse tentare nuovamente di evadere addirittura si temeva che qualche suo fedele stesse orchestrando un assalto alla prigione di ruan per liberarla e in effetti come si sarebbe scoperto in seguito il capitano l'air uno dei suoi più fedeli compagni d'arme stava organizzando un assalto simile contro la prigione di ruan dove era tenuta giovanna per liberarla ma questo piano non andò in porto a causa di tempistiche e mancanza di mezzi ora le rivelazioni delle voci di giovanna vanno sempre analizzate sotto due diversi filtri quello della fede e quello razionale se consideriamo il primo probabilmente giovanna pensava che la sua sarebbe stata una liberazione concreta e solo alla fine quando ormai era sicura di morire sul rogo avrebbe compreso e ammesso che la liberazione promessa le dalle sue voci era la liberazione dai tormenti terreni e la ricompensa della pace e della libertà in paradiso quindi sotto questo punto di vista assume un altro significato molto più concreto il messaggio di santa caterina se andiamo però sul piano razionale bisogna tenere in conto il fatto che giovanna sperasse davvero che venisse messa in moto un'azione militare da parte dei suoi compagni d'arme per liberarla materialmente dalla prigione di ruan chi pensa che queste voci così specifiche fossero i preti che in segreto consigliavano giovanna come padre l'adveniu e padre isambard che le consigliavano su come muoversi durante il processo qualcuno potrà pensare che le fosse già stata ventilata da loro la quasi certezza che non sarebbe uscita viva da quel processo terminiamo così la lunghissima disanima di carattere religioso in questo processo politico camuffato da processo religioso e passiamo a quello che fu il light motive l'aspetto più concreto quello a cui i giudici si afferrarono con le unghie con i denti per cogliere in fallo giovanna ovvero il fatto che indossasse abiti maschili rispondi alla mia domanda accetti di rinunciare all'abito maschile se ti autorizziamo a sentire messa le mie voci non mi hanno detto niente a questo proposito non posso ancora vestirmi da donna vuoi consultare le tue sante permettetemi di sentire messa vestita da uomo lo desidero tanto quanto a cambiare abito la cosa non dipende da me non dipende da me se così fosse sarebbe presto fatto ebbene chiedi alle tue voci di farti sapere se ti autorizzano a riprendere i tuoi abiti femminili per accostarti alla santa comunione e adempiere al precetto pasquale per quello che dipende da me io non cambierò d'abito per fare la comunione permettetemi di sentire la messa in abito maschile questo abito non cambia la mia anima indossarlo non è contro la chiesa questo è un pensiero che oggigiorno non ci si pone nemmeno siamo nell'epoca in cui pensiamo ad una spiritualità che guarda al nostro cuore non certo agli abiti che indossiamo quelli al massimo sono un problema della decenza o della sensibilità civile ma all'epoca era un aspetto di giovanna che si prestava molto al concetto della moralità secondo le scritture chiunque indossasse abiti appartenenti al sesso opposto era ritenuto abominevole agli occhi di dio per cui se sulla questione delle voci era difficile coglierla in castagna premere sugli abiti maschili che indossava era una vera miniera d'oro per i suoi giudici che fecero pesare moltissimo il piatto delle accuse su questo suo aspetto scandaloso venne invogliata più e più volte a dismettere gli abiti maschili e indossare una tunica femminile addirittura come abbiamo visto nel passaggio che abbiamo appena letto venne ricattata facendo leva sul suo desiderio di sentire messa ora per giovanna sarebbe stato facilissimo far notare che per lei indossare abiti maschili equivaleva a proteggere la sua virginità sia durante la sua missione in guerra sui campi di battaglia sia nella sua prigione che ricordiamolo non era una prigione della chiesa dove sarebbe stata sorvegliata da donne ma era una prigione inglese dove era tenuta d'occhio costantemente da soldati da uomini giovanna era perentemente perennemente a rischio di violenze capite a me di quali violenze sto parlando in abiti femminili non avrebbero avuto difficoltà ad abusare di lei ma con abiti maschili che le permettevano una maggiore copertura fisica e l'eventuale agilità che le avrebbe permesso di sfuggire e difendersi ad eventuali assalti giovanna poteva difendere non solo se stessa la sua integrità ma anche il suo nome il suo titolo di pulzella ovvero vergine che dava valore alla sua missione ma stranamente giovanna non fa mai notare questo aspetto concreto della sua scelta di vestirsi da uomo per lei semplicemente indossare abiti maschili è inscindibile dalla missione che le è stata data da dio anzi più volte afferma che solo quando la sua missione sarà compiuta e gli inglesi saranno stati cacciati dalla francia solo allora avrebbe ripreso i suoi abiti femminili alla fine se vogliamo andare a rovistare tra i tecnicismi furono proprio gli abiti maschili a fungere da fulcro centrale per la condanna a morte di giovanna anche perché da un punto di vista giuridico era la base più solida sulla quale i suoi giudici potevano appoggiarsi per condannarla se fossero rimasti ancorati alla questione delle voci non avrebbero trovato i presupposti per condannarla se fosse ma quando non quando giovanna puntualmente non diceva nulla di compromettente in materia di fede riconosceva l'autorità papale e soprattutto faceva un continuo riferimento al rimettersi alla volontà di dio che è proprio alla base della fede cristiana il suo voler trasgredire la regola biblica che vietava di indossare abiti non conformi al suo sesso ecco quella sarebbe stata la leva usata nel processo per perderla definitivamente arrivati ad un certo punto il 15 marzo del 1431 a quasi un mese dall'apertura del processo si iniziò ad avvertire l'insofferenza dei giudici riflesso dell'insofferenza degli inglesi che facevano pressione su di loro lo si capisce da come le loro domande iniziano a farsi più insidiose e mirate possiamo quasi avvertire la violenza con la quale pongono queste domande domande ripetute più volte spesso e volentieri ma lo trovo ma troviamo questa insofferenza anche nelle risposte di giovanna nelle quali possiamo sentire la sua stanchezza la fatica anche la rabbia da parte sua nel sentirsi messa all'angolo o tartassata con domande alle quali aveva già risposto alle quali già si era rifiutata di rispondere nel corso di due giorni il 27 e il 28 marzo ci fu la lettura dei 60 articoli dell'atto di accusa questa fu la prova del 9 nelle quali oggi possiamo ipotizzare fino a che punto le accuse rivolte a giovanna fossero veritiere o no questo perché se ad alcuni atti di accusa giovanna diede risposte precise ad altri si limitò ad un semplice mi rimetto a dio questa risposta può forse denotare una sorta di ammissione un voler evitare di rispondere perché altrimenti avrebbe dovuto fare ammissione di qualcosa siamo nel campo delle ipotesi la lettura dei 60 articoli non conclusero il processo ma furono il prologo alla parte finale di esso ebbe così inizio l'atto finale e non potendo iniziare sotto auspici poco chiari infatti dopo una pausa dovuta alla pasqua quando gli interrogatori ripresero il 18 aprile veniamo informati dagli altri dai atti processuali che questo interrogatorio si tenne nella cella di giovanna perché quest'ultima era ammalata questo episodio è oggi ricordato come l'episodio della carpa avvelenata infatti si dice che quello di giovanna fu un tentativo di avvelenarla proprio facendole mangiare una carpa avvelenata ma chi aveva interessi ad avvelenare giovanna che buona parte dei co protagonisti di questo processo volesse morta giovanna non è un segreto ma come abbiamo già detto gli inglesi avevano tutti gli interessi non soltanto ad uccidere giovanna ma anche a screditarla e sinceramente farla morire avvelenata in carcere non avrebbe risolto i loro problemi anzi li avrebbe complicati perché un simile assassinio avrebbe potuto risultare come un'ammissione indiretta di come la sua causa fosse giusta e di come gli inglesi fossero in malafede nel processarla la maggior parte degli storici di solito tende a puntare il dito contro il capoccia dei giudici il vescovo cosciò infatti risulta che la carpa venne mandata giovanna proprio da parte di cosciò durante i giorni precedenti la pasqua ma per cosciò vale lo stesso discorso fatto per gli inglesi far morire giovanna con il veleno facendola magari passare per una morte per malattia non avrebbe risolto i loro problemi le sue opere sarebbero rimaste tenendo conto di questo persino la spiegazione che vuole cosciò abbelenare giovanna per risolvere il problema di quel processo senza via d'uscita anche questa risulta piuttosto debole non rimane quindi che una sola spiegazione che probabilmente giovanna non venne mai avvelenata il suo malore fu verosimilmente dovuto ad una semplice intossicazione alimentare ci può stare e con questa spiegazione non ci sono sbavature ma per chi vuole lasciare ma per chi non vuole lasciare andare la tesi del tentato avvelenamento c'è questo passaggio dell'interrogatorio sempre di quel 18 aprile che fa girare le rotelline dei nostri cervelli cosciò dice a giovanna se la tua malattia ti fa temere per la vita a maggior ragione devi correggerti non potrai invocare come cattolica i doni della chiesa se non ti sottometti alla chiesa ecco questa non sembra una frase tanto buttata così forse ci fu davvero un tentativo di avvelenare giovanna ma non per ucciderla ma bensì per puntare sulla sua paura di una sua morte imminente per spingerla a rimettersi all'autorità della chiesa potrebbe darsi c'è poi un'altra teoria che si collega alla teoria che ho già trattato in un altro video quello dedicato alla tesi della di giovanna d'arco sopravvissuta al rogo che ovvero che è una teoria quindi ovvero questa teoria che vuole che la carpa fosse davvero avvelenata ma che il vero bersaglio non fosse giovanna ma bensì cochon secondo questa teoria trattata da teresa buongiorno nel suo romanzo giovanna d'arco la ragazza dal vestito rosso la vita segreta dell'eroina di francia ebbene secondo questa teoria gli inglesi avrebbero cercato di eliminare cochon tramite il veleno perché nel suo voler seguire le regole giuridiche stava tirando troppo per le lunghe questo processo avrebbero quindi pensato di avvelenarlo e sostituirlo con un ecclesiastico più compiacente e sbrigativo ma cochon in uno slancio di carità cristiana decise di mandare proprio quella carpa avvelenata a giovanna e quando si rese conto del pericolo scampato decise avrebbe visto in maniera diversa la sua vittima o forse avrebbe interpretato questo episodio come un segno di dio e sarebbe in seguito arrivato al punto di decidere di farla evadere in segreto dal carcere facendola sfuggire facendole sfuggire la morte sul rogo sostituendola con un'altra condannata ovviamente come vi ho detto questa è una ricostruzione presente in un romanzo e la teoria della sopravvivenza di giovanna lascia un po il tempo che trova ma è comunque una teoria che a suo modo mi affascina parecchio la trovo molto interessante per cui ho voluto anche farci un piccolo cenno ma ci avviciniamo ormai alla fine del processo e purtroppo anche alla fine dell'esistenza terrena di giovanna il 24 maggio 1431 nel cimitero della bazia di santuan giovanna venne messa di fronte ad un rogo già preparato per lei e messa definitivamente all'angolo o sceglieva di abbiurare o sarebbe stata affidata al braccio secolare della giustizia e bruciata come eretica di fronte all'imminenza di una sicura morte giovanna cedette e firmò la sua abbiura oppure no cosa fece giovanna quando le venne messo davanti il foglio della biura firmò la carta ma aggiunse anche un cerchio ed una croce simboli messi a caso non proprio torniamo un attimo indietro di tre mesi proprio gli inizi del processo avevi l'abitudine nelle tue lettere di mettere una croce dopo i nomi di gesù e maria dipende qualche volta mettevo una croce per far sapere alla persona alla quale scrivevo che non doveva fare quello che io gli scrivevo di fare mi permettete un'uscita verbale giovanile giovanna li aveva trollati tutti alla grande aveva firmato la biura ma al tempo stesso in un certo senso l'aveva disconosciuta mettendoci quel segno della croce che per lei era un simbolo che praticamente smentiva quanto riportato smentiva tutto così si era salvata la vita e la dignità delle proprie convinzioni con un solo tratto di penna per rincarare la dose i testimoni presenti a quel momento dissero che giovanna ad un certo punto scoppiò a ridere certo bisogna considerare che giovanna non era al suo meglio mentalmente e fisicamente dopo più di tre mesi di processo minacce continue il pensiero di star rischiando di morire sul momento che si fosse lasciata andare ad una risata indicherebbe più che altro che fosse preda di un forte stress il processo si sarebbe dovuto concludere così a questo punto giovanna non sarebbe stata bruciata sul rogo ma sarebbe stata tenuta in prigione per tutto il resto della sua vita avrebbe dovuto indossare abiti femminili di nuovo abiti femminili avrebbe dovuto lasciarsi crescere i capelli ma avrebbero dovuto spostarla in una prigione ecclesiastica dove sarebbe stata sorvegliata da donne e dove avrebbe potuto accostarsi ai sacramenti e sentire messa come lei in fondo avrebbe voluto fare purtroppo come ebbero a mormorare gli inglesi e forse lo stesso vescovo cosciò non si sarebbero lasciati sfuggire la loro preda infatti giovanna non venne posta in una prigione della chiesa ma venne rinchiusa nuovamente nella sua solita prigione inglese dove adesso in abiti femminili sorvegliata da soldati inglesi era seriamente in pericolo è tutto troppo evidente per non capire che venne fatto apposta col chiaro intento di spingerla a indossare di nuovo gli abiti maschili e infatti tre giorni dopo il 28 marzo si scoprì che giovanna aveva indossato di nuovo gli abiti maschili non sappiamo come le furono arrivati non sappiamo cosa avvenne in questi tre giorni non sappiamo cosa dovette subire giovanna in questi tre giorni sappiamo solo però che venne lasciata in una libertà tale da riuscire a indossare di nuovo gli abiti maschili e considerate che lei indossava i ceppi ai piedi e alle mani cosa che non le impediva di vestirsi e svestirsi è molto strano ed è tutto talmente strano che si capisce che c'era proprio la volontà di permetterle di ricascare di nuovo e in effetti come accadeva in quasi buona parte dei processi per eresia all'epoca se la prima condanna poteva se la prima sentenza dei processi nelle cacce alle streghe o nelle condanne per eresia nei primi tempi della santa inquisizione quando la santa inquisizione ancora quando l'inquisizione ancora non era quel martello degli eretici violento che sarebbe stato dal 1500 in poi ma quando era ancora un po più all'acqua di rose un po più aperta un po più larga di maniche di solito i processi si concludevano con la biura della persona condannata una piccola penitenza e un rientro tra le sfere come pecorella smarrita tra gli ambiti della chiesa tra le sfere della chiesa una condanna invece di recidività una condanna per relapsia ovvero una ricaduta e ripetere di nuovo lo stesso errore era una sicura condanna a morte in effetti giovanna alla fine non venne condannata per eresia ma venne condannata in in quanto relapsa in quanto recidiva per aver mancato a al fatto di averse di seguire le le imposizioni dovute alla chiesa quando aveva abbiurato ovviamente si evitò di far notare che la chiesa per prima aveva mancato agli impegni che aveva preso con giovanna al momento in cui lei aveva accettato di abbiurare ed è così che per giovanna come dice anche dalle sue stesse parole ho ripreso quest'abito perché voi non avete mantenuto la vostra promessa di lasciarmi sentire messa fare la comunione e togliermi questi ceppi preferisco morire piuttosto che continuare a vivere con questi ceppi se però mi lasciate andare a messa mi togliete catene e ceppi mi mettete in una prigione decente mi concedete la compagnia di una donna farò tutto quello che la chiesa vorrà hai più sentito le voci da giovedì scorso sì che cosa ti hanno detto dio mi ha mandato a dire per bocca di santa caterina e santa margherita quale miserabile tradimento ho commesso accettando di rinnegare e ritrattare tutto per paura della morte mi ha fatto capire che volendo salvarmi stavo per dannarmi l'anima prima di quel giovedì le voci mi avevano preannunciato ciò che sarebbe successo quando stavo sul patibolo mi dissero di rispondere con ardimento a quel predicatore io quel predicatore lo chiamo un predicatore di menzogne ha detto molte cose che non ho mai fatto se sostenessi che non sono l'inviata di dio mi perderei è la sacrosanta verità sono l'inviata di dio le mie voci mi hanno detto che ho gravemente peccato dichiarando di non aver agito a mio diritto ma l'ho detto perché avevo paura del fuoco tu credi che le tue voci siano proprio santa caterina e santa margherita sì in nome di dio quando stavi sul patibolo hai detto che mentivi quando ti vantavi di sentire le voci di santa caterina e santa margherita non le intendevo così non ho mai inteso negare le mie apparizioni tutto quello che ho fatto l'altro giorno è stato per paura del fuoco tutto quello che ho ritrattato l'ho ritrattato andando contro la verità preferisco fare penitenza in una sola volta e morire piuttosto che sopportare più a lungo la sofferenza di questa prigione non ho fatto nulla contro dio e la fede qualunque cosa mi abbiate costretto a ritrattare della formula della ritrattazione non ho capito una sola parola e poi proprio in quel momento dissi che non intendevo ritrattare nulla qualora dispiacesse a dio se proprio insistete mi rimetterò i vestiti da donna per il resto non ho altro da dire giovanna fu condotta al rogo mercoledì 30 maggio sulla piazza del vie marché di rouen il frate domenicano martin l'adveniù l'aveva confessata e cochon permise che si comunicasse tenete a mente questo passaggio essa desiderava il conforto di un crocifisso pietosamente un soldato inglese le confezionò una piccola croce legando insieme due pezzetti di legno rotti dalla punta di un bastone frate isambar de la pierre corse alla vicina chiesa di san laurent si fece consegnare una grande croce astile e gliela avvicinò al volto dal basso quanto più poté affinché dall'alto del rogo potesse averla vicina e fissare fino ai suoi ultimi istanti il suo signore crocifisso con lei intorno molti piangevano anche i prelati i gran signori gli inglesi avvolta dalle fiamme gridò più volte ad altissima voce il nome di giovanni il nome di gesù era ancora una volta il mese di maggio come al tempo delle fate come sotto le mura liberate di orlean un legame sottile arcano tenace lega giovanna allo splendore della primavera dopo il maggio degli antichi riti di fecondità e di rinascita della natura che l'inverno aveva sopito dopo il fragor di guerra del maggio cavalleresco ecco adesso il fuoco e il fumo del maggio del martirio vergine come maria anche giovanna aveva fatto proprio il mese delle rose così si conclude la storia terrena di giovanna d'arco e così ebbe inizio la sua leggenda una leggenda che vive tuttora la sua voce si spegne con quel lapidario per il resto non ho altro da dire come detto a inizio video a ragione teresa cremisi a dire che il suo processo di condanna le diede quella voce che il processo di riabilitazione avvenuto nel 1455 24 anni dopo la sua morte altro processo politico e pilotato non le diede piccola nota a margine il processo di riabilitazione pote aprirsi sulla base di un madornale errore commesso dai giudici di giovanna ovvero l'averle permesso di fare la comunione prima di venire giustiziata sul rogo cosa che contraddiceva l'intero processo e la sua condanna a morte dal momento che in quanto eretica non avrebbe potuto accostarsi ai sacramenti da questo piccolo dettaglio nacque il modo per riabilitare giovanna e annullare il suo processo di condanna in conclusione vediamo quanto fino alla fine nemmeno i suoi stessi giudici avevano dato tanto credito a questo processo per giovanna il discorso fu sicuramente diverso dal momento che con questo processo combatte non solo per la sua vita ma anche e soprattutto per l'integrità delle sue convinzioni e della missione che l'aveva spinta ancora a diciassettenne a lasciare la sua tranquilla e pacifica vita contadina per gettarsi nel mondo cambiarlo ed entrare nella storia il processo di giovanna non ha mai mancato di affascinare tanti scrittori e soprattutto registi che lo hanno valorizzato molto più che delle battaglie da lei affrontate durante l'inizio della sua missione ma ci sono stati anche dei film che hanno preferito raccontare unicamente quest'ultima parte della vita di giovanna è iconico ad esempio il film di carl theodor dreier la passione di giovanna d'arco del 1928 un capolavoro del cinema muto un'opera di interpretazione talmente grande che si racconta che la stessa attrice che interpretò giovanna l'attrice francese rené falconetti non vuole più interpretare altri ruoli cinematografici dopo di questo avendo toccato con quell'interpretazione la vetta più alta della sua carriera mentre invece un film più asettico è quello del 1962 processo a giovanna d'arco di robert bresson che è una presentazione degli atti del processo ma priva del pathos e dell'empatia del precedente la passione di giovanna d'arco per il resto in tanti altri romanzi il processo a giovanna è forse il capitolo più epico in assoluto non sto nemmeno poi ad elencarveli tutti quanti e beh in conclusione parlando un poco della bibliografia allora per questo video mi sono basato principalmente come avete potuto vedere perché li ho fatti comparire puntualmente lungo tutto il video appunto il processo di condanna di giovanna d'arco e la biografia di franco cardini giovanna d'arco la vergine guerriera e in più per gli approfondimenti che ho dovuto fare specialmente per quanto riguarda il ruolo della donna in ambito medievale donne in fuga vite ribelli nel medioevo di maria serena mazzi dove si raccontano solo anche la vicenda di giovanna d'arco ma anche delle donne che vissero in maniera autonoma indipendente anche in ambito spirituale e non solo questi due libri come vi ho detto mi sono arrivati da un utente gentilissimo e anonimo che mi ha regalato questi libri prendendoli dalla mia wish list quindi questo video nasce e si forma grazie anche a quest'utente anonimo che ringrazio ancora di cuore spero che magari attraverso qualche commento un commento a sotto a questo video vorrei palesarti altrimenti ti ringrazio comunque allo stesso e ti ringrazio perché questo video non sarebbe nato senza il tuo speciale contributo poi per il resto vi lascio poi link amazon a tutti i libri che vi ho citati anche il romanzo di teresa buongiorno giovanna d'arco la ragazza dal vestito rosso che non so se è ancora in catalogo comunque eventualmente vi lascio sempre il link amazon qui giù nell'info box e in più ne voglio approfittare perché ho saputo che aspettate un secondo faccio veloce ecco qua non potevo non non portarlo si non badate all'armadio aperto si tra i miei libri i libri li metto nell'armadio ecco vi nomino di nuovo il cuore di giovanna d'arco di michelangelo rossato un libro illustrato bellissimo che vi consiglio caldamente ne ho già parlato in una recensione a parte e ho saputo da di recente vedendo una sua storia su instagram che michelangelo rossato ha avvisato che le ultime copie stanno in esaurimento scorte quindi se ancora non l'avete preso affrettatevi io vi lascio il link amazon se sono ancora disponibili il cuore di giovanna d'arco bellissimo ragazzi da leggere da sfogliare da ammirare eccetera eccetera fate ancora in tempo a prenderlo magari non lo so speriamo tanto proprio vorrei concludere proprio mostrandovi l'albero delle fate visto che ne abbiamo parlato tantissimo cioè guardatemi ditemi se non è un capolavoro veramente veramente bello bravissimo michelangelo non so se mi stai se stai guardando questo video ma ancora complimenti bravissimo e niente io concludo qua il video spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate ditemi la vostra su cosa ne pensate in questo processo ditemi voi quali riflessioni ciò vi ha portato e ditemi la vostra qui giù nei commenti sono tanto curioso di sapere se avete fatto qualche riflessione al riguardo o avete qualche aggiunta a voi da fare iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete vi ricordo che se volete sostenere il mio canale vi lascio sempre il link alla mia watch list di amazon qui giù nell'info box e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao 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 ciao